E adesso passiamo al terzo sketch, La Bavosa, con Roberto Donati e Lorenzo Mannozzi. Buonasera a tutti. Dopo la risata c'è anche il momento della cultura. Bene, io sono il presentatore, sono Roberto, e con me c'è un grande maestro, c'è Lorenzo. Venga maestro? Bene maestro, pronto? Pronto? Oggi andiamo in Asia. Pronto maestro? Sì. È primavera, di più, ancora di più, e dopo un gelido inverno, torna a rianimarsi l'immensa puzza. La puzza? La puzza maestro, la puzza? La puzza? No, quella maestro, la puzza, è la steppa che va dall'Ungheria alla Russia. Anche non ho iniziato. La terra che un tempo fu percorsa dai cani. Il cani, non so i cani, è un popolo, un popolo, è dal gran cacan. Gran cacan. Cacan. Non quello del bagno, è il gran cacan, è il capo dei cani. Ah, il capo dei cani. Falcavo. Oggi pull la di cazzari. 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 Di cazzari. Una zeta. Non sia un gare. Cazzari. Cazzari. O una. Buona abitudine per i cazzari è andare per la steppa, ognuno in groppa, al proprio pullan. Pullan. Il pullan, quello non sia volgare. Il pullan è l'asino. Questo. L'asino. E no. Va bene. In questa stagione il mar nero è più limpido. Non è difficile incontrare una caretta caretta. Caretta, caretta, caretta. E' la tartaruga. Caretta, caretta, caretta. Fai la tartaruga. Non quella di fare la tartaruga. Che si accoppia senza sosta sulla battiglia. Si accoppi? Questo non lo posso fare. Come no? Lo faccio, è una cosa naturale. Ah. 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 A secco proprio. Va bene. Diamo avanti. Si spalanca gli occhi una bella veduta di pull up. Pantozzi, Pantozzi, che cosa fa? Pull up, pull up. E' una città, non quello. E' una città. E' una città. Fazzone. Dove pascolano allegramente i caracull. Caracull, caracull. Caracull, sono pecore. Ah. Beh. 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 E' una città che fanno cazzo per lo step. Lo step. Step. Non ballano le pecore. Lo step è l'erba. Ah. Non se drogano le pecore. Non se drogano. L'erba. L'erba. L'erba nella lingua russa è quella che brulicano le pecore. Brulica. Bagna. Ah. Nel frattempo, gruppi di coatti. Oh. Che vai guardate, oh. Eh? Oh. So procioni. Non è il burino del tuffello. So procioni. È bello, eh. Chi vi dici, eh? Procioni con la P. No, quelli, maestro. Mamma mia. Si radunano a caccia di mignatte. Oh, allora. Andiamo. È bello. Di mignatte. Su, andiamo. No, quelle le mignatte. Dai, qui dovremmo campare, dovremmo campare. Ho modato una pizza. Sono sanguisughe. Ah. Sanguisughe. Sì, no, no. Sanguisughe. L'estate è ormai alle porte. Ah. È curiosa, osserva lo scorrere delle stagioni, la pavosa della steppa. Un bravissimo mimatore. Bravo, bravo. Grandi, bravi. Ecco a voi, Roberto Donati e Lorenzo Marinozzi. Prego. Prego. Prego.